Purtroppo non c'è più un culto dei morti. Io dovrei dire che dovrebbe stare aperto perché per i morti noi ci teniamo. Ma non se ne sente più parlare, quindi se la stanno vedendo loro come le solite cose, si nasconde la verità. Comunque si hanno preso, a meno si hanno preso la responsabilità di cosa è successo. Grazie a tutti.